Nel cimitero monumentale di Migiano si incontra la deliziosa cripta di Santa Marina, importante monumento salentino afferente alla cultura e alla tradizione religiosa italo-greca. Posizionata sotto l'omonima chiesetta, costruita nel corso dell'evo moderno, la cripta si sviluppa in tre ambienti pogei. Sulle pareti si individuano ancora importanti affreschi, risalenti, secondo gli studiosi, a lungo asse cronologico stimabile dall'undicesimo al quattordicesimo secolo. Più tardo è invece l'affresco della Santa titolare Marina, raffigurata nella sua tipica posa iconografica, con palma e martello, intenta a soggiogare un drago. Tra le popolazioni del Salento meridionale, Santa Marina è invocata contro l'Ittero, tradizionalmente definito come Male d'Arcu. Le forme pittoriche bizantine restano evidenti nell'affresco dell'Addornizio Virginis, la pittura più antica della cripta. Nella scena è raffigurata l'Addornizione di Maria, distesa nel folto gruppo degli Apostoli che ne celebrano le sequie. Nella parte superiore si nota la figura di Cristo che accoglie tra le braccia l'anima della Vergine, in gergo iconografico definita Eidolon. Altri affreschi impreziosiscono la cripta, come l'Effigie di San Nicola Vescovo di Mira, spesso presente all'interno dei programmi decorativi realizzati nell'ambito del culto italo-greco. L'invaso probabilmente aveva una funzione originaria sepolcrale, così come è stato ipotizzato nelle recenti attività di studio. La cripta di Santa Marina di Migiano si colloca all'interno del prezioso patrimonio storico di matrice bizantina, cultura che nel Salento si è sviluppata per secoli nell'identità italo-greca. Grazie a tutti. Grazie a tutti